A distanza di poco più di 24 ore sono stati individuati i responsabili dei raid contro i bus dell'ANM a Napoli in servizio notturno. I due, un 28enne e un 34enne, entrambi napoletani, si sono resi protagonisti di una serie di vere e proprie assalte ai mezzi pubblici in sette diverse zone del capoluogo di regione, utilizzando una pistola d'aria compressa poi sequestrata dalle forze dell'ordine. Per i due balordi è scattata la denuncia per i reati di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti in quanto ritenuti responsabili di oltre dieci episodi di danneggiamento degli autobus. È stata una bravata, hanno detto i due giovani, per giustificarsi davanti agli agenti della questura di Napoli. Un'azione folle e coordinata per colpire il maggior numero di bus in dotazione all'azienda napoletana Mobilità, almeno 12, scegliendo proprio il momento della notte per agire. Forte era stata la condanna del sindaco Gaetano Manfredi, del presidente della Commissione Mobilità del Comune Gaetano Simeone, che ha subito condiviso le immagini degli ingenti danni subiti dagli autobus. La stessa azienda di trasporti aveva presentato denunce a poche ore di distanza dal raid. Le indagini, iniziate subito dopo quanto accaduto, hanno consentito al personale della squadra mobile di individuare l'auto che è stata rintracciata dagli agenti in via Salvatore Rosa con a bordo i due. In seguito al controllo effettuato all'interno del veicolo è stata trovata l'arma utilizzata per il raid. Una pistola soft air munita di caricatore rifornito di tre pallini di 6 mm, un barattolo con circa 900 pallini dello stesso calibro e 7 bombolette di anidride carbonica per consentire il funzionamento dell'arma.